Angelo Testa, come sta andando la stagione? Al di là di ogni previsione siamo molto molto contenti, abbiamo delle giornate stupende, ci aiuta anche il sole, la luce e al di là di ogni previsione siamo molto soddisfatti di come stanno andando le cose. Infatti la gente che vedete sulle piste dice al di là delle parole quello che sta avvenendo e che funziona. Quindi possiamo dire che per ora le condizioni climatiche sono state favorevoli? Al di là di ogni previsione la gente ha raccolto l'invito e è venuta, ha trovato dalla neve stupenda, un po' di naturale, un po' di artificiale, abbiamo delle piste che riscuotiamo la soddisfazione dei nostri clienti. La novità di quest'anno è l'apertura di una nuova pista? Abbiamo l'apertura di una nuova pista e della nuova seggiovia a tre posti che ci sta dando grande soddisfazione. Prima cosa perché sono tre posti per cui non c'è più coda, non ci sarà più coda degli impianti. Seconda cosa servirà moltissimo, viene chiamata a campo scuola appunto perché servirà molto ai principianti, ai bambini e a chi vuole iniziare questa attività e questo facilita molto il nostro lavoro. Ricordiamo le caratteristiche di questa pista? Dunque è lunga 500 metri, con delle piste tra 600 metri sui lati, porta 1500 persone l'ora e questi tre posti, questa è una bella realtà che abbiamo con fatica accettato di farla ma che oggi si sta veramente pagando perché la gente piace molto. Quindi avete un po' rischiato in questo periodo, in questi mesi, questi anni di crisi? Si è postato il rischio molto forte perché con la crisi che c'è in giro, vedere, rischiare e fare questo intervento molto molto pesante per noi, per oggi questo momento qui. A ottobre si diceva che la crisi non c'è alle spiagge e stiamo constatando che è vero per noi, fino ad oggi siamo molto contenti, la crisi non c'è. Qui poi dobbiamo ricordare che oltre alla nuova pista ve ne sono chiaramente delle altre, ci sono poi anche le strutture, i rifugi. Sì, noi in quota abbiamo questo rifugio che sta dando veramente piace tantissimo, abbiamo anche trovato la soluzione per i si alpinisti, per cui il martedì sera e il giovedì sera lasciamo le piste aperte ai si alpinisti per dare anche loro la possibilità di sviluppare il loro sport. battiamo le piste a mezzanotte e oltre la mezzanotte e questo ci gratifica molto e troviamo che la gente ha gradito molto questa nostra disponibilità, questo nostro servizio che stiamo dando. Con la nuova seggiovia avete completato l'offerta? Sì, chiaramente, adesso noi possiamo presentare all'osciatore il tappeto rullante che permette proprio i primi passi per i bambini e per gli adulti. Di conseguenza poi abbiamo questa seggiovia nuova a tre posti, campo scuola, che lì passato dal tappeto passa da questo impianto e sviluppa veramente questa passione. Poi abbiamo altre tre seggiovie che si sviluppano nel nostro compressorio e questo permette di soffrire delle piste rosse, delle piste nere e con la possibilità di soddisfare l'esigenza di tutte le persone che vengono a sciare. Come vi trovate qui agli spiazzi di Gromo? Ma niente da dire, in questo periodo abbiamo sfruttato la pista Pagherolo per fare un po' di allenamento di gigante, è innevata bene, c'è un sacco di neve e sicuramente verremo ancora anche perché si riesce a fare un gigante impegnativo di 40 secondi e quindi siamo contenti. Come vi trovate qui agli spiazzi? Molto bene, molto bene, il posto è incantevole, la neve è finalmente arrivata diciamo quasi abbondante e le piste sono notevoli, veramente belle. Poi grazie al signor Testa per aver fatto il nuovo impianto con le tre sedute, grazie ancora perché è veramente bello. Viene spesso quegli spiazzi? Sì, sì, veniamo molto spesso, poi ultimamente i figli vogliono venire sempre più spesso e siamo tutti contenti. Ci troviamo bene, un bel posto, bella giornata. Con gli amici? Con i parenti. Con i parenti, in quanti siete? Siamo in quattro, papà, zio e fratellino. Da dove venite? Da Curnasco, provincia di Bergamo. E venite spesso? Sì, abbiamo la casa in affitto e quindi siamo qua quasi tutto l'anno. Da dove venite? Milano. Milano. Come vi state trovando qui oggi? Fantastico perché si scia bene e poi è un complesso molto familiare, quindi si va in baita, si sta qua anche la sera. Passano delle belle giornate. Passano delle belle giornate, delle belle serate. Se ne indicassi un po' di più è ancora meglio, però fino adesso benissimo. Quindi ci tornerete? Eh no, siamo qua per tutta la stagione. Abbiamo preso una casa qua per sei mesi e quindi tutti i weekend siamo qua. Come ti trovi con gli spiazzi? Bene, bene, le piste sono belle. E cosa fai? Scii con la tavola, con lo snow o vai con gli sci? Scio con gli sci e adesso quando finisco di mangiare vado a sciare. Un bel pranzo pesante o leggero? No, abbastanza leggero, solo un panino. Così poi si dovrà sciare? Esatto. E vieni spesso qui? No, in realtà è la prima volta che vengo perché di solito vado su altri impianti però mi piace qua. Quindi ci tornerai e chiederai ai genitori di portarti ancora? Esatto, sì, perché mi piace e quindi mi farò riportare. Sulle piste degli spiazzi operano anche gli uomini della Croce Blu di Gromo? Abbiamo un ottimo servizio eseguito dalla Croce Blu che ci segue con una presenza costante, professionale, molto buona e questo ci permette di presentare questo fiore all'occhiello perché veramente sono capaci e preparati. Per cui ci portano un servizio che, a parte che è previsto dalla legge, ma a noi si soddisfa molto perché ci rende tranquilli che quando uno viene in soccorso, che ha bisogno di qualcosa, sono molto presenti. Siete soddisfatti delle loro presenze? Poi anche un servizio in casa, la Croce Blu di Gromo, spiazza di Gromo? Ci mancherebbe anche quella, anche perché ci sono ragazzi che sono cresciuti qui, hanno seguito il nostro percorso e c'è un rapporto veramente anche di persone oltretutto. Come lavora la Croce Blu qui sulle piste? La Croce Blu è presente qui sulle piste da più di vent'anni con due pattugliatori durante la settimana e quattro pattugliatori durante il sabato e domenica e i giorni festivi per garantire la sicurezza sulle piste. Siamo presenti sia con le pattuglie con i taboga piuttosto che con la pattuglia con la motoslitta che è pronta a intervenire in caso di necessità sulle piste, qualsiasi cosa succeda, veniamo chiamati. Via radio partiamo e riusciamo a dare soccorso all'infortunato. Siete operativi per il primo soccorso, poi eventualmente dopo il vostro intervento arrivano i vari trasferimenti per raggiungere l'ospedale. Una volta fatto il primo soccorso, valutato il paziente, chiamiamo il 118, facciamo la chiamata alla centrale al numero unico d'emergenza che si passa sulla centrale di Bergamo che prevede poi a mandarci il mezzo d'emergenza più idoneo al soccorso che può essere l'elicottero, l'automedica, in supporto all'ambulanza. Quali sono i principali interventi che eseguite? I principali interventi che eseguiamo sono dal bambino che cade e ha dolore a un ginocchio a interventi più seri dove c'è la necessità di far intervenire l'elicottero per traumi di colonna piuttosto che traumi cranici. E qual è il consiglio che volete fornire agli sciatori, giusto per calcare gli sci con maggiore sicurezza? Allora, prima di tutto l'uso del casco che noi abbiamo tutti, lo usiamo per esempio perché in caso di trauma cranico quello che salva è il casco, come sulla moto per strada, sugli sci è la stessa cosa. Sicuramente prudenza, attenzione agli altri e andate piano. Quante persone lavorano qui in questa stazione scistica? Abbiamo 7 fissi e 10-12 stagionali. Com'è il lavoro qui? Cosa si deve fare tutti i giorni principalmente? Quello che è il lavoro più grosso è quello di seguire la sicurezza degli impianti, fare i controlli, verificare, per cui è un lavoro molto pesante perché veramente quando si mette a verificare un seggio via ci vogliono un mese di lavoro, 4-5 persone. E questo ci pesa molto, insomma. Altronde però la sicurezza è la base principale e questo ci temiamo molto. E poi chiaramente c'è tutta l'accoglienza nei rifugi. C'è l'accoglienza nei rifugi, questo servizio sicuramente quando uno si trova in quota deve trovare delle sue esigenze. Abbiamo sviluppato sicuramente adesso per poter colmare il cerchio e stiamo lavorando molto bene per l'estate. Abbiamo realizzato la pista di boba artificiale, un'altra società ha messo il parco a sospeso, abbiamo dei down wheel l'estate con le biciclette e il rifugio sempre aperto. E il rapporto con gli enti pubblici e le istituzioni com'è? È ottimo direi perché come mai, come questa volta, hanno capito il problema. Se non si riesci conto che di fronte delle difficoltà dell'attestazione avere e trovare, non perché sono io, ma trovare il coraggio di iniziare una realtà di quel tipo qui, per cui è il mio dovere ringraziare l'administrazione comunale di Gromo che veramente ha capito il problema e ci ha aiutato tantissimo. Oltre a quello devo ringraziare la comunità montana e il parco della Rodie che è di fronte a una realtà come questa, se non c'erano loro non si vuole fare niente. Hanno capito però, hanno visto che quanto è stato fatto negli anni scorsi e corrisponde alla bellezza della zona, abbiamo migliorato naturalmente anche il paesaggio esistente. Oggi possiamo dire che oggi le spiagge sono più belli di 30 anni fa, con un pizzico di orgoglio, però lasciatemelo dire. Ecco, Testa, mi consenta anche una domanda personale, ma lei quanti anni ha? Quasi 80, maggio l'anno prossimo sono 80. E da quanti anni fa questa professione? Da qui con l'impianto sono 27 anni che sono qui. Posso dire di aver ribaltato tutto, di vecchio non c'è più niente, e così anche questa primavera, c'è stata questa offerta, questa giovia, è stata una pazzia pensare alla realtà che c'è. Però nella mia vita ho sempre constatato che nei momenti di crisi, se non ti decidi a partire rischiando, ti fermi, sei perduto. Anche questa volta, per grazia di Dio, posso dire che questo salto che ho fatto, questo rischio, dai risultati di questi giorni qui, mi dà soddisfazione, mi dà pagamento, questo rischio che ho fatto. Ecco, ma come possiamo descrivere questi suoi anni, questa sua attività? Come ha iniziato? Ma ho iniziato da ragazzo, ho 12 anni, ero già al lavoro, alle 5 del mattino ero già al lavoro, è iniziato così, ho cercato di affrontare la vita sempre con serenità, però con tanta passione. Il mio vita è stato quello di innamorarmi sempre di quello che facevo, e ad agio ad agio, rischiando sempre la vita, mi ha aiutato, il Padre Eterno sicuramente mi ha seguito, e questo mi gratifica, sicuramente non è stata facile. Anche perché ero il primo di dieci, ho dovuto aiutare un po' anche gli altri fratelli a venire fuori. E questa società ora è tutta dalla vostra famiglia? Sì, quando faccio merendo con la moglie, facciamo il consiglio di amministrazione.